Colta da Zanoni che apre per Sottana, quanti regali ci ha fatto il Montenegro su quest'azione? Serie di regali che adesso va capitalizzata, bisogna giocare con calma quest'azione e non farsi prendere dalla loro frenesia. Res marcata da Perovanovic, va sull'ala da Masciadri, Zanoni libera per un attimo ma non guarda neanche il canestro, va invece da Sottana con 6 secondi per un attacco molto lento dell'Italia, Sottana prova a risolvere la situazione, scarica per Dotto, Dotto da 3 punti, a segno Francesca Dotto dall'angolo, più 7 Italia! Questo tiro può valere una fetta di qualificazione! Mi viene un po' di emozione vedere una giocatrice così giovane con la sua prima esperienza che ha una freddezza come quella che ha dimostrato Francesca in quest'azione. Tiro incredibile sullo scadere di 24 secondi, fallo in attacco di Perovanovic! Insulta da terra, Katrin Rez, l'Italia vede lo strisciore del traguardo.